Bene, cavalli al via. Abagual, al momento la più appoggiata, addirittura 1.45, ora la quota. Macchina che va per lasciare i concorrenti. Veloce dall'esterno Axel Degli Ulivi che si insedia al comando nei confronti di Abagual, poi Ambus, quindi il plotone in fila indiana, Aria Bag in quarta posizione a precedere a NG Thor. Ora Abagual si muove e va a chiedere strada al leader, operazione che si potrebbe concretizzare all'ingresso dei cavalli nella retta per il passaggio davanti alle tribune. 400 in 29.4, Abagual, nuova leader nei confronti di Axel Degli Ulivi. Così con adesso il tentativo per linee esterne di Always B che va in risalita ai 600 passati in 45 e mezzo. Sposta dalla corda Ambus che va in anticipo su Aria Bag e poi anche sul numero 8 di Ariel che finisce addirittura in terza corsia. Quando siamo adesso nella seconda parte della corsa con sempre al comando Abagual che ha ora all'esterno ancora il numero 3 di Always B. Intanto il chilometro va via in 1.16.9, seconda pariglia per Ambus, seconda posizione alla corda sempre per Axel Degli Ulivi. Con Abagual che per il momento ha respinto l'avversario, intanto si allarga Ambus, si fa infilare di dentro da Aria Bag. Quando siamo ora completamente piegata sbaglia Aria Bag e allora Always B intanto rinnova i suoi attacchi ad Abagual, mentre non ha spazio per il momento Axel Degli Ulivi. Con Abagual che cerca di tenere lì gli avversari, Abagual ancora al comando nei confronti di Axel Degli Ulivi e ancora Always B. Nel finale Abagual che si mette al sicuro, mentre Axel Degli Ulivi è secondo a precedere Always B. 1.59.6 sul cronometro, siamo nell'ordine dell'1.14.5, considerato il parziale iniziale. Vittoria per Abagual con Antonio Simioli per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Cupolone. Ha conquistato il comando dopo 300 metri di corsa e ha poi gestito parziali nel miglior modo il secondo posto, vedete, di misura per Axel Degli Ulivi che contiene un comunque valido Always B. Il 5 al primo posto, il 7 al secondo e il 3 al terzo, l'ordine di arrivo di questa terza corsa. Grazie. 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 Grazie.